Musica Sabato prossimo alle 17.30 nella sala dei quadri di Palazzo Comunale sarà presentato il libro di Don Bruno Bignami La chiesa in trincea, i preti nella grande guerra Don Bruno Bignami è venuto a trovarci per darci qualche anticipazione su questo libro e soprattutto su questa presentazione Buongiorno Don Bruno Grazie dell'invito, buongiorno a tutti Allora, la prima considerazione che ho fatto è che mi sembra un libro un po' diverso rispetto a quanto ha scritto fino a questo momento e invece sono stata smentita subito No, non è diverso, nel senso che intanto io insegno, mi occupo di teologia morale e lo sfondo della riflessione, quello della guerra, il tema della guerra giusta che è un tema che ha attraversato la teologia morale da Sant'Agostino in qua Fino ancora ad oggi probabilmente secoli e secoli E poi non è distante da quello di cui mi occupo normalmente perché essendo presidente della Fondazione Mazzolari essendo Don Primo Mazzolari uno dei preti che hanno vissuto la guerra in prima persona prima come soldato semplice, poi come cappellano militare diciamo ho affrontato e visto già da tempo quello che era stata questa drammatica situazione dei preti in guerra Ecco, come vivevano quindi? Come viveva il clero in guerra? Io ho fatto lo sforzo in questo lavoro di ricercare, diciamo di guardare all'interno dei diari di cappellani militari di preti soldato, quali pubblicati finora di guardare qual è stato l'impatto della guerra sulla coscienza di un prete cioè di preti formati tra l'altro in un contesto ben diverso dal nostro quindi dobbiamo andare indietro cento anni fa in una lotta che nel primo decennio del secolo scorso aveva visto la chiesa molto arroccata contro per esempio le correnti moderniste e i seminari, i luoghi da cui uscivano questi giovani sacerdoti che poi furono arruolati in guerra erano ambienti abbastanza rigorosi, rigidi con un'idea, un certo concetto di chiesa e fu la loro coscienza stravolta dall'impatto con la guerra tant'è che una delle dinamiche che tornano di più all'interno dei loro diari è il termine crisi la loro coscienza viene davvero messa a soccuadro da tanti aspetti l'impatto con la morte innanzitutto l'impatto drammatico con la condizione in cui si combatteva soprattutto in montagna è stata una guerra molto dura e quindi la condivisione della vita con questi giovani soldati i loro coetanei li provò tantissimo e questo fece anche a portare una riflessione nuova secondo me nel rapporto tra chiesa e mondo nel modo di guardare le cose in rapporto col mondo se nell'immaginario collettivo comunque esiste la figura del cappellano militare anche perché esiste ancora oggi nelle nostre caserme e quelle del preto e soldato forse sembra già un'immagine quasi, non so, difficile da capire certo, dobbiamo pensare che siamo prima dei patti lateranesi che avvengono solo nel 1929 e in quel contesto chiunque appartenente e cittadino italiano doveva dare il proprio contributo anche in caso di guerra non esisteva una... no, normalmente però c'era una tensione che era questa si cercava di collocare i preti o i seminaristi o in qualche caso anche religiosi che erano arruolati si cercava di collocarli all'interno più che altro di compiti di sanità questo più che altro per preti e religiosi mentre per i seminaristi in diversi casi capitò che furono arruolati e finirono in prima linea in trincea Ecco, quindi non c'era possibilità di obiezione civile in questo caso No, no, questo è tutto ciò che accadrà anche in seguito a quello che è stato il dramma di queste guerre che accadrà nel corso del Novecento però non è quel periodo il periodo che vede una riflessione ancora lucida su questi temi Ecco, ma in realtà i cappellani militari o come venivano chiamati nell'Ottocento i lemosinieri vennero a un certo punto eliminati anche perché c'era un conflitto stato-chiesa Insomma, pensare di lasciare dei preti proprio all'interno delle forze armate spaventava un po' il giovane stato italiano Poi però leggevo che il cattolicissimo capo di stato maggiore Cadorna proprio nel 1915 volle reintrodurli Adesso da un po' di tempo in realtà si parla anche di riformare un po' questa figura perché si è parlato dei costi che rappresentano appunto la presenza dei cappellani militari Lei chiede se è fatto? Ma io personalmente ritengo che la figura del cappellano militare sia una figura che possa esserci in quanto riferimento spirituale e accompagnamento spirituale di un mondo come tanti altri all'interno di un paese come il nostro Sono molto dubbioso, anzi non condivido il fatto che i capelli militari debbano avere delle stellette o debbano essere all'interno Perché poi hanno un grado vero e proprio i militari Esatto, e questo penso che sia un problema perché il servizio è giusto, l'accompagnamento è quanto di più dovuto si debba ad ogni situazione in cui ci sono soprattutto giovani come nel caso di militari però ritengo che bisogna avere anche un pizzico di profezia rispetto a quanto è il mondo militare e soprattutto l'utilizzo delle armi che ha sempre rappresentato dai primi secoli fino ad oggi un grande punto interrogativo all'interno della riflessione cristiana sul concetto di guerra Ebbene, tanto è vero che ci sono state anche riflessioni su quello che è stato il ruolo dei papi, no? Che hanno in qualche modo direttamente a che fare con i conflitti bellici Nel libro trovano spazio anche parecchi parroci cremonesi dell'epoca Sì, perché la Cremona di cento anni fa è una Cremona di una straordinaria vivacità Incontriamo figure davvero straordinarie accanto a Don Pio Mazzolari che muove i primi passi e riflette durante la grande guerra quel pacifismo inizia a muovere i primi passi dentro al percorso pacifista però abbiamo una figura come Don Raffaele Carletti che abbandonerà il ministero dopo la guerra per conflitti interni alla chiesa cremonese soprattutto un diverbio fortissimo con il proprio vescovo Monsignor Cazzani e però Don Anibale Carletti si era conquistato la prima pagina della Domenica del Corriere con una vignetta per la famosa Termopili d'Italia la battaglia del Passo Buole in cui aveva preso le redini di una situazione fallimentare e aveva portato la vittoria di quella battaglia accanto a queste figure significative certamente anche non possiamo dimenticare un Don Guido Astori grande prete della chiesa cremonese del secolo scorso e anche lui partecipe del dramma della guerra per tanti versi autore di un diario e poi c'è tutto il mondo legato a Miglioli Miglioli nella prima guerra mondiale rappresenta nel mondo cattolico il duro e puro cioè colui che è assolutamente in difesa del mondo contadino si accorge che la guerra avrebbe portato impoverimento ulteriore alle famiglie contadine e per cui si mette davvero in opposizione forte contro il conflitto quindi il mondo cremonese è un mondo molto vivace anche la figura stessa di Monserarcazzani è certamente una grande figura ecco ma alcuni preti lasciarono poi tolsero, come si dice, l'abito l'abito, alcuni preti lasciarono il motivo non solo ma molti di più furono i seminaristi si pensi al seminario di Messina nessuno rientrò in seminario perché? Perché il dramma della guerra li cambiò li trasformò, cambiò il modo modo di loro che dovevano forse al di là dei seminaristi però che dovevano essere forse una guida un aiuto per gli altri furono una guida, un aiuto però dovessero ripensare il loro modo di guardarsi in rapporto al mondo e questo fu un motivo di grande scontro anche all'interno della Chiesa è un travaglio ecclesiale quello che succede in quel periodo per cui questi non si ritrovarono più nel modo di essere preti precedenti e dovettero rimpostare il loro ministero per cui successe che alcuni abbandonarono il ministero e lasciarono, 350 preti in Italia furono sospesi a Divinis dopo la grande guerra altri dovettero ripensare il loro ministero per esempio Don Prio Mazzolari chiese al Vesco di andare a fare il parco cioè di fare il prete in mezzo alla gente non a insegnare in luoghi lontani dalla vita delle persone sta facendo un po' il nostro Papa quasi quasi cercare di avvicinare sempre di più la gente è quella che è stata l'acquisizione del Concilio Vaticano II di una Chiesa nel mondo e non di una Chiesa contrapposta al mondo e che Papa Francesco sta in qualche modo portando avanti in maniera molto visibile grazie, grazie a Don Bruno Bignami ricordiamo nella sala dei quadri di Palazzo Comunale sabato alle 17.30 la presentazione del libro La Chiesa in Trincea, i preti nella grande guerra la Chiesa in Trincea la Chiesa in Trincea la Chiesa in Trincea la Chiesa in Trincea